Emergenza profughi, no dei sindaci all'accoglienza, il vice prefetto ora non resta che sperare in un miracolo. Tensione in piazza dei signori, l'ufficio del rappresentante del governo assediato da benetisti e manifestanti di forza nuova. Iscritto all'albo dei promotori finanziari, malgrado i 560 mila euro sottratti ai correntisti, arrestato ex bancario. Drammatici infortuni sul lavoro, a Loria e Estrana due operai rischiano un braccio, indagini di carabinieri e spizal. Eventi stagionali e grandi mostre per rilanciare il centro storico, castigano al lavoro per il Natale all'insegna di musica e luci. La marca punta sul turismo a 5 stelle, in crescita le presenze di visitatori che cercano l'eccellenza in testa i cinesi. La chiesa parrocchiale di San Lazzaro torna al suo antico splendore, ma i lavori di restauro non sono finiti, si cercano sponsor. I bambini del Banco Alimentare raccontano con i loro disegni le fiere di San Luca e i lavori poi esposti durante la manifestazione. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione di TG Treviso. Come avete sentito dai titoli, il tema dei profughi nella marca in apertura del nostro telegiornale. Vertice oggi in prefettura con quasi tutti i sindaci per cercare una soluzione ai nuovi arrivi, ma anche alle attuali presenze. Di fatto nessun risultato concreto, mentre già da domani 36 rifugiati rischiano di essere lasciati per strada. In questo momento non sono molto ottimista. Sperate in un miracolo? Diciamo che personalmente, essendo uomo di fede, ci spero sempre. Accoglienza profughi, nella marca ora siamo ai miracoli, visto che dalla convocazione di oggi dei sindaci in prefettura non si è arrivati a capo di nulla. Non c'è un modo di prestarvi nessun genere di accoglienza, è quello che amaramente abbiamo dovuto constatare dagli interventi che sono emersi. Intanto, oltre ai preannunciati nuovi arrivi, già da domani in Comune a Treviso si prospetta una prima emergenza. Noi intanto abbiamo un preannuncio di 19 che dovrebbero arrivare nel momento in cui ci comunicheranno che arriveranno, potrebbero arrivare nel fine settimana. Il punto è che poi ci sono i 38 del dormitorio che devono uscire sostanzialmente domani mattina e che sono già i primi che evidentemente si troveranno senza nessuna forma di accoglienza. 38 persone che finiranno in strada perché il dormitorio di via Pasubio è stato già assegnato ad altre emergenze. Una patata bollente nelle mani del sindaco Manido che punta tutto su Caritas e le altre cooperative sociali. Avere 30 persone per strada è una cosa che io adesso cercherò di evitare in tutti i modi. Poi la critica sulla gestione, sul fatto che si può fare e si deve fare di più, questo lo faremo sentire al governo centrale perché è vero che siamo arrivati allo strenuo. Sindaci trevisiani uniti contro lo Stato quindi è pronti ad un documento comune con una soluzione ben precisa. Utilizzare anche delle caserme, cioè che il demanio dia delle risposte. Riporto l'esperienza dell'Albania. L'Albania è stata affrontata utilizzando strutture militari appena dismesse e oggi ce ne sono molte anche in provincia di Treviso. Oggi l'incontro era per sondare le disponibilità con i sindaci già però preparati ad un probabile obbligo da Roma. E se la obbligano? Beh o io vado sulle barricate o mi dimetto. Alla fine l'unica apertura seppur minima all'emergenza di domani è arrivata dalla Caritas. Qualche posto nelle altre strutture si è liberato con delle persone che si sono allontanate e quindi questo permette di poter risolvere e anche far fronte a questa situazione. Chiaro che il dopo diventa un po' più problematico. Questo quindi è il risultato del vertice mentre fuori venetisti ed esponenti di Forza Nuova letteralmente assediavano la prefettura. Era cominciata così la manifestazione spontanea contro i nuovi arrivi di profughi nella marca, diventato un vero e proprio assedio della prefettura da parte dei venetisti. A dare idealmente fuoco alle polveri il sindaco di Resana, Loris Mazzorato. Se può essere eloquente. Poi l'arrivo di Forza Nuova ai primi slogan gridati. Viva gli italiani, casa e lavoro! Che l'atmosfera fosse già carica lo dimostravano i cancelli prefettizi aperti giusto per lasciare passare i sindaci convocati. E quando anche un gruppo di venetisti ha cercato di entrare si sono schierati carabinieri e poliziotti. Vi auguro a tutti voi di trovare un vostro familiare che si appena sparare in testa a vita alle 15 anni. Il papà è morto, suicidia, si è sparato in casa. Io avevo 15 anni, mio fratello ne aveva 22. L'abbiamo trovato morto io e lui. Si è sparato perché aveva paura di perdere il posto di lavoro, di non poter mantenere la sua famiglia. E io non voglio che altri genitori facciano questo, i loro figli. Si è sfiorato il contatto quando una coppia di stranieri ha chiesto di entrare per ritirare un documento. Alla fine deve scendere il sindaco di Santa Lucia per calmare gli animi. Ho parlato con questa gente perché non voglio che, come io ho detto ieri, che devono essere pacifiche le dimostrazioni perché tutti hanno un ruolo. E' ovvio che pretendo che ci sia questo rispetto. E voi cosa ne pensate? Giusto dunque delegare ai comuni l'accoglienza dei migranti? Diteci la vostra opinione scrivendo come sempre i vostri messaggi via sms al 340-321-8806 oppure via posta elettronica all'indirizzo redazione chiocciolareteveneta.it o lasciandoci i vostri messaggi direttamente su Facebook. E ora la cronaca rubò 560 mila euro ai correntisti. È stato arrestato un ex bancario che si era reiscritto all'albo dei promotori finanziari. Malgrado la radiazione del 2007 e la nuova inchiesta per furto aggravato che l'ha coinvolto nel 2013, a febbraio di quest'anno Matteo Scattolin, 40 anni coneglianese, ex bancario, era riuscito a iscriversi nuovamente all'albo dei promotori finanziari. Potenzialmente quindi avrebbe potuto raggirare qualcun altro. Il Tribunale di Treviso però gliel'ha impedito. Su ordinanza emessa dal GIP Silvio Marras, ieri mattina la Guardia di Finanza lo ha arrestato e posto ai domiciliari da dove non potrà dunque avere contatti con l'esterno. Una svolta nell'inchiesta partita lo scorso anno che vede il quarantenne indagato per furto aggravato nei confronti di tre correntisti di una filiale trevigiana della Banca di Treviso. Dal 2008 al 2013 avrebbe sottratto ben 560 mila euro da tre diversi conti correnti intestati a cinque soggetti. Scattolino riusciva a spendere anche 15 mila euro al mese. Licenziato in seguito a quella vicenda era tornato nel giro per il rischio di reiterazione del reato. È stato arrestato. Il provvedimento arriva a un giorno di distanza da quello preso sempre dalla finanza nei confronti dell'ex pilota Fabio Valle, 52 anni, vittoriese d'origine ma residente a Villorba, finito in carcere per un giro di fatture false tra l'Italia e la Spagna da 25 milioni di euro più 5 di IVA non versata. Ai domiciliari Marco Bortoluzzi, 36enne, montebellunese, residente a Spresiano, indagati anche la madre, 85enne di Valle, e Manolo Biz, 37enne, pordenonese di Cordenons, attualmente residente a Barcellona. E la cronaca di questa giornata registra anche due gravissimi infortuni sul lavoro in due distinti incidenti a Loria e Estrana, altrettanti operai rischiano di perdere un braccio. Incastrato con un braccio nel rullo trasportatore, un 49enne di Loria si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Caffoncello. L'incidente è accaduto questa mattina all'interno della ditta Superbeton di Via Biagi a Castion di Loria. Intorno alle 8.30, per cause ancora in corso d'accertamento, l'operaio è rimasto incastrato con il braccio destro nel nastro trasportatore degli inerti. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno lavorato a lungo per liberare il braccio dalla morsa del macchinario. Trasportato in elisoccorso a Treviso, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per cercare di salvare l'arto fortemente compromesso nell'incidente. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Castelfranco e i tecnici dell'ospisa al Cavranoro ha il compito di chiarire la dinamica dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità. Poco più tardi, alle 13, infortunio analogo all'Aliplast di Ospedaletto di Strana, un operaio di 57 anni di Morgano ha subito la subamputazione di un braccio in un silos. Anche lui è stato trasportato in elicottero a Treviso e sottoposto a un intervento chirurgico. L'ospisa l'ha sequestrato il macchinario in attesa di capire se si sia trattato di un difetto di quest'ultimo o di un errore umano. E ora le immagini di un tentativo di manovra decisamente maldestro. Stamattina intorno alle 9.30 a lungo la Ponte Bana a Spresiano sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperare, poco lontano dalla discoteca Odissea, l'auto condotta da una donna, mancato il parcheggio. Diciamo così, la macchina è finita nel fossato. Per l'automobilista, per fortuna, solo un po' di contusioni. La donna è stata soccorsa dall'ambulanza del suo M118 mentre l'auto è stata riportata dai pompieri sulla sede stradale, impegnata una squadra partita dal comando di Treviso. Voltiamo pagina. Siamo all'economia nella marca con gli ottimi dati sulle presenze turistiche in testa ai cinesi che scelgono alberghi ai massimi livelli. Il rilancio della marca passa sempre più per il turismo. A sottolinearlo i dati sulle presenze del primo semestre di quest'anno con un aumento di quasi il 10% di arrivi nelle città trevigiane. Vale a dire che abbiamo conquistato un turista in più ogni 10 arrivati nel 2013. E attenzione, l'identikit è molto interessante in quanto proveniente in genere dalla Cina o dai paesi economicamente emergenti e utilizza alberghi e strutture di categoria medio-alta. Tutti i segnali chiari di come il settore turistico debba puntare alla qualità nell'accoglienza. Forse il turismo quest'anno, perché dobbiamo fare degli discorsi analitici annuali, si sposta più su un turismo delle città d'arti. E quindi è un turismo che va costruito giorno per giorno sulle eccellenze che il territorio offre. E proprio sulle motivazioni che ora il turismo di marca vuole puntare, con proposte tematiche. Si creano delle linee di prodotto, e questo è il futuro della nuova promozione, in cui si mette insieme a tematismi molto prati. Ieri abbiamo presentato ad esempio le vie della fede. Chi si inserisce in questi contesti si organizza in modo tale di ospitare quel genere di persone. Marca che punta anche a ridurre i passaggi tra turista e struttura che lo accoglie. Quel turista che compra un viaggio non so a quanto, ma che prima di arrivare da noi ha diversi passaggi, diverse intermediazioni, perché da Tokyo chiamano Mosca, da Mosca chiamano Londra, dal Mondo chiamano Milano, da Milano chiamano Venezia e da Venezia trovano il posto da dormire. Per cui il prezzo finale è un prezzo molto basso. Infine è importante la presenza dell'aeroporto che deve essere rafforzata. Rafforzare vuol dire non disturbare, mi raccomando, vuol dire cogliere le opportunità che questo dà. Non diventare il dormitore di Venezia o non essere il dormitore di Venezia rispetto a quel tipo di gruppo, ma che diventi un investimento e cogliere ogni opportunità che adesso o in futuro l'aeroporto potrà dare. Dai dati sul turismo provinciale alla ricetta per rilanciare invece il centro storico di Treviso. 160.000 presenze in tre giorni, 10.000 solamente all'Isola del Gusto. Cassugana tira un bilancio del fine settimana di Treviso Creativa, che ha chiuso il ciclo annuale di eventi iniziato col Natale 2013, proseguito con la manifestazione dedicata ai fiori in primavera e quindi con l'estate trevigiana. La strada è quella giusta, dice l'assessore di reparto Paolo Camolei, per dare nuovo slancio al centro storico, ma non basta. Rappresentano un livello, il livello più semplice, più vicino alla gente, e più facile forse anche da realizzare. Però ci sono anche degli altri obiettivi, l'obiettivo di portare a Treviso una mostra a livello internazionale. Poi dobbiamo posizionarci anche come commercio, come attività produttiva, come centro naturale all'aperto di attrattiva commerciale. L'ultimo livello, forse quello più difficile, è quello di ripopolare la città di Treviso. Noi dobbiamo diventare un centro di almeno 120.000 abitanti, con un centro storico che deve ritornare almeno sui 20-25.000 presenze. Con Marco Goldin compiuto anche oggi un nuovo passo per riportare a Treviso le grandi mostre. L'accordo non è ancora chiuso, ma poco ci manca. Intanto già da oggi si è ricominciato a lavorare per il Natale, che si preannuncia più ricco di quello dell'anno scorso. A me piace il Natale pieno di musica e pieno di luci. Chi sa mai che Treviso diventi pieno di musica e pieno di luci per Natale. L'idea è quella di partire dal weekend dell'8 dicembre per poi arrivare fino all'Epifania, lavorando chiaramente in modo principale sul weekend, quindi sabati e domeniche. Poi il capodanno non sarà organizzato da me, ma sicuramente sarà un capodanno importante a Treviso. E sul fronte economico da registrare come l'export continua a essere l'unica ancora di salvezza del manifatturiero trevigiano. Secondo i dati dell'ufficio studi di un grande gruppo bancario internazionale, nella marca le esportazioni hanno portato a un aumento della produzione del settore plastico e degli elettrodomestici, toccando incrementi anche del 10% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Buone anche le vendite estere per la calzatura sportiva di Montebelluna e il mobile dello Pitergino Mottense, sorprendente invece il leggero rallentamento nella prospettiva di vendita del prosecco, che si è attestato a un più modesto 3%. E ora al Banco Alimentare di Rete Veneta, Sant'Artemio, bambini protagonisti oggi. I disegni dei bimbi del Banco Alimentare di Rete Veneta esposti nel tendone delle fiere di San Luca, tanti fogli colorati che racconteranno una delle tradizioni più vive di Treviso. sarà il modo con cui i bambini diranno grazie per i biglietti delle giostre che l'associazione Fiere ha voluto regalare al Banco di Sant'Artemio. Il presidente delle giostre ci ha portato questi biglietti che noi stiamo consegnando e dividendo per tutti i bambini, naturalmente i genitori se i bambini non ci sono, che sono a scuola, in maniera che sappiano che devono farci questo disegno che poi verrà esposto alle fiere di San Luca presso lo stand gastronomico del signor Fermi, che ci ha autorizzato e così vedremo la fantasia di questi bambini del Banco Alimentare e dei ragazzi dei Ceodo. E proprio ai bambini va il pensiero di molti di quelli che donano ogni settimana generi di prima necessità al Banco Alimentare. Il bambino è cresciuto, ormai non lo usa più, chi ha bisogno, sono qua, faccio volentieri. Da Treviso a mercati tanta frutta di stagione da distribuire alle famiglie in difficoltà. Intanto ringrazio tantissimo il mercato ortofrutticolo perché ci sta dando tutti i frutti di stagione. Sono arrivati i cachi, buonissimi, le mele, perciò la frutta per noi è molto importante e quest'oggi diamo tantissima roba, ma tantissima frutta. Chiunque può portare quello che vuole. L'importante è che sappiano non mobili perché purtroppo non abbiamo gli spazi. Offerte che testimoniano comunque la grande generosità dei Veneti verso il Banco Alimentare, punto di riferimento sia per chi ha bisogno che per chi dona. Da Sant'Artemio a San Lazzaro andiamo a scoprire la chiesa parrocchiale restaurata ed inaugurata. Grazie a un importante restauro, la chiesa vecchia di San Lazzaro torna al suo antico splendore, consolidata alla volta della navata e risanate pareti e altar maggiore. Già dall'inverno scorso i fedeli della parrocchia di San Lazzaro hanno potuto riprendere le funzioni nella cappella settecentesca. Creare un qualcosa, una nuova creatura, dare vita, dare continuità di servizio a questo contenitore per esempio che era dismesso da decenni, era in stato di abbandono, inutilizzato e che adesso è stato restituito alla comunità. Quattro mesi di duro lavoro per il restauro della pala dell'altar maggiore è il vero capolavoro da ammirare. La pala d'altare è stata commissionata a Domenico Fedeli, detto il Maggiotto, un artista nato a Venezia nel 1713. È stato allievo di Gian Battista Piazzetta dal quale ha tratto grandi insegnamenti e acquisito la tecnica pittorica ma non ha mai poi superato il maestro. Resta comunque un artista di grandi capacità artistiche. La pala d'altare è dedicata al nostro santo patrono San Lazzaro che lo si può ben riconoscere perché porta in testa la mitra. A volte è dimenticata la parrocchiale di San Lazzaro per i molti viaggiatori lungo il terraglio. A svettare è il campanile per chi entra in città. I lavori non sono terminati ma la parrocchia da sola non basta. Il restauro non si è ancora completato infatti manca da completare la cantoria dell'organo, le pareti esterne, manca l'aredo del verde e la pavimentazione del piazzale. Siamo arrivati fino a questo punto con notevoli difficoltà. Credo che si potrà fare qualcosa se si riusciranno a avere dei contributi e degli aiuti esterni perché diversamente la parrocchia da sola non può affrontare queste spomme. Le mele marce del Veneto virtuoso è il titolo della puntata in onda questa sera. A focus, ospite del direttore Luigi Bacialli dalle 21.05 saranno Pietro Ruzzante, Stefano Peraro, Giovanni Furlanetto, Diego Bottacin, Giovanna Giusto, Riccardo Sciumschi, Silvano Piazza. Come al solito aspettiamo i vostri SMS. È davvero tutto, noi torniamo domani, vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.